A Taurianova i carabinieri nei giorni scorsi e nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione della criminalità comune hanno denunciato sei persone per oltraggio a pubblico ufficiale, violazioni degli obblighi imposti da misure cautelari, possesso di sostanze stupefacenti e arrestato tre soggetti. Nello specifico i carabinieri della stazione di Taurianova hanno arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Palmi un 62enne e un quarantenne del posto, congiunti i quali devono espiare una pena definitiva residue di oltre tre anni di reclusione in carcere a fronte della pena complessiva di anni sei e mesi quattro per essersi resi responsabili a partire dal 2017. di gravi reati come quello di usura, estorsione e percosse nei confronti di altri soggetti nel territorio della piana di Gioia Tauro. A Varapodio invece i militari della stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura della Repubblica di Palmi nei confronti di un 72enne del luogo in quanto ritenuto definitivamente responsabile di reati in materia ambientale e di smaltimento illecito di rifiuti, dovendo espiare la pena della detenzione domiciliare di mesi otto di reclusione. Nel medesimo contesto operativo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia e della stazione di Polistena hanno segnalato all'autorità giudiziaria quattro soggetti già noti alle forze dell'ordine che già sottoposti alle misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora emesso dall'autorità giudiziaria di Palmi hanno violato gli obblighi a loro imposti essendo stati sorpresi dai militari all'interno della propria abitazione con soggetti estranei al nucleo convivente oltre che per aver violato il divieto di dimora nel comune di Polistena. Nell'ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti a Polistena i carabinieri hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione di una giovane donna circa 9 grammi di sostanza stupefacente di tipo marihuana. La donna è stata segnalata all'autorità prefettizia e la sostanza stupefacente sequestrata.